Un particolare dello spaccio messo in piedi dal trio di pusher era l'assortimento delle droghe offerte ai propri acquirenti. I carabinieri appostati su via Storiale hanno visto arrivare un 26enne alla guida di uno scooter che dopo aver parcheggiato è entrato nell'edificio dopo aver citofonato. I militari sono intervenuti raggiungendo l'uscio dell'appartamento. La porta è stata aperta dal minore dei fratelli per far entrare un cliente. A quel punto gli investigatori hanno fatto irruzione in casa trovandosi di fronte a un vero e proprio fortino della droga. Il soggiorno nell'appartamento era organizzato in maniera completamente funzionale all'attività di spaccio. Su una parete era stato installato un grande monitor 65 pollici su cui passavano in real time le immagini di nove videocamere che avrebbero consentito ai pusher di monitorare tutto il perimetro della palazzina. A ridosso della tv erano stati posizionati due pulsanti che permettevano l'apertura del portone d'ingresso e della porta blindata. Al centro della stanza poi era presente un tavolo su cui era esibita come su una bancarella al mercato una vasta scelta di sostanze stupefacenti dalla marijuana fino a cocaina e crack. Tutto già suddiviso in dosi confezionate con carta stagnola. Seduti al tavolo il 22enne e il maggiore dei fratelli gestivano la droga in esposizione mentre il minore che in un primo momento non si era accorto che quelli in borghese fossero carabinieri si occupava dello smercio ai clienti. I militari hanno dunque recuperato tutta la droga in esposizione e perquisito i tre pusher uno dei quali il più giovane di età aveva in tasca 150 euro in contanti. La droga è stata sequestrata, i tre pusher sono stati arrestati, il maggiorenne è finito a piazza Lanza, i minorenni in un istituto per minori.